La Guardia di Finanza di Salerno, unitamente al locale ufficio delle Dogane, nell'ambito dell'azione pressata a presidio della legalità e per la tutela dei cittadini, ha posto in essere l'ennesima iniziativa di solidarietà a favore della Caritas diocesana salernitana, donando oltre 1.300 capi di abbigliamento, per lo più destinati ai bambini, oggetto di un sequestro eseguito dalle fiamme gialle, congiuntamente ai funzionari doganali, all'esito di un'attività di contrasto alla contraffazione. La Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Salerno, rilevata l'effettiva esigenza e il sicuro utilizzo ai fini umanitari della merce, oggetto di provvedimento cautelare, ha disposto la devoluzione ai cittadini più bisognosi della comunità degli articoli sottratti al mercato del falso, altrimenti destinati alla distruzione. Alla consegna avvenuta presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane hanno presenziato i rappresentanti dell'ente caritatevole, che quotidianamente si adoperano per i meno fortunati, nonché i militari e i funzionali doganali, che hanno effettuato il sequestro. L'iniziativa, che si pone nel quadro dell'impegno costantemente profuso dalle due amministrazioni a sostegno della collettività, rappresenta dunque una forma ideale di connubio tra i concetti di lotta alla contraffazione e la solidarietà. Grazie.